I sindaci del territorio Terramano a Roma martedì prossimo per protestare contro il decreto Monti. La decisione è stata adottata questa mattina nel corso del vertice voluto dal sindaco Maurizio Brucchi. Attesa per questa notte la neve anche in provincia di Terramo pronto il piano di emergenza ma se il maltempo dovesse perdurare ci sarebbero disagi per la circolazione. Discarica abusiva a Piane di Pozzo. Il consigliere del PD Gian Guido d'Alberto che ha segnalato il caso chiede il potenziamento dell'organico dei vigili ecologici. Anche a Terramo il PDL si interroga sui contenuti da dare all'elettorato in vista delle politiche del 2013 per fermare la fuga di esponenti di spicco del partito. La giunta comunale di Alba Adriatica dal via libera all'installazione di 33 telecamere per la videosorveglianza. Terramo rimaneggiato per il derby di lunedì all'Aquila fuori Coletti, Speranza e Petrella. Per Bucchi e Foglia al massimo ci sarà la panchina. Domani intanto il chieti di scena a Foligno. Nel San Nicolò impegnato sul difficile campo della Civitanovese esordio per Chicco, Zebi e Gabrielli per iniziare la rincorsa alla salvezza. La Miternina va a Termoli, derby Celano-Angolana. In eccellenza, ultima giornata di andata, rischio neve su alcuni campi. Il Giulianova ospita al Fadini, il Casalin Contrada. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Teleponte. Buonasera, apriamo parlando di politica ma soprattutto di abolizione delle province. I sindaci del territorio terramano saranno a Roma martedì prossimo per protestare contro il decreto Monti. Parteciperanno alla sitina dei territori soppressi e presenteranno una proposta di legge costituzionale per l'abolizione di tutte le province d'Italia. Seguiamo il servizio. Nasce da Terramo la proposta per la predisposizione di una legge costituzionale in cui si preveda l'abolizione di tutte le province d'Italia. E' quanto emerso dall'incontro convocato per questa mattina dal sindaco di Terramo Maurizio Brucchi. Tra tutti i primi cittadini dei comuni della provincia, al quale ha partecipato direttamente e comunque manifestando l'adesione la gran parte degli interessati. Il confronto tra i sindaci che si è svolto nella sala consigliare del municipio di Terramo ha permesso loro di ritrovarsi attorno alla battaglia per la tutela degli interessi dei singoli territori e in una visione più ampia ma condivisa dell'intera provincia. Sono emerse sfumature che hanno concorso a dare maggiore forza alle conclusioni cui si è pervenuti dopo un'ora di dibattito. E' stato ribadito che la mobilitazione non ha lo scopo di proteggere poltrone politiche ma di salvaguardare i diritti dei cittadini e del territorio riducendo al minimo i disagi e le problematiche che la prospettiva della soppressione potrebbe aprire e di rendere ragione e rispetto di una storia politica, economica, amministrativa, culturale tra le più antiche dell'Abruzzo. Il coinvolgimento dei sindaci tende alla richiesta della ridistribuzione delle funzioni con la connessa riorganizzazione dei servizi sul territorio per favorire una maggiore efficienza della macchina amministrativa. La prima decisione scaturita dall'incontro pertanto è stata di redigere un documento che verrà consegnato al Presidente del Senato Schifani nel quale appunto i sindaci del territorio di Terramo avanzano la proposta di legge costituzionale che prevede la cancellazione di tutte le province rendendone i fatti inapplicabili e superate le disposizioni contenute ora nel decreto legge del Governo Monti che invece sancisce la cancellazione di soli 35 territori creando di fatto sperequazioni. Oltre ciò i sindaci hanno dato la propria adesione alla partecipazione in fascia tricolore alla manifestazione che si terrà martedì prossimo 11 dicembre a Roma in occasione dell'inizio della discussione in Senato per la conversione in legge del decreto. E adesso la cronaca. I carabinieri del nucleo operativo di Alba Adriatica hanno arrestato un albanese di 25 anni incensurato e residente a Colonnella con il regolare permesso di soggiorno. Nella serata di ieri i militari che già da tempo lo tenevano d'occhio hanno perquisito la sua abitazione scoprendo 50 grammi di cocaina del valore di circa 5.000 euro. La droga era già suddivisa in 30 involucri termosigillati, 7 nascosti in un pacchetto di mentos per evitare i controlli delle unità cinofile. I restanti involucri si trovavano invece in un barattolo contenente del riso nascosto nel filtro della cappa del cammino. I militari hanno anche rinvenuto un bilancino di precisione, 80 grammi di mannite. Il 25enne si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Perde il controllo dell'auto che finisce contro un palo della pubblica illuminazione. Il conducente si allontana ma nella zona si verifica un blackout elettrico. Sono dovuti intervenire i vigi del fuoco, gli operai dell'Ener del comune ad Alba Adriatica nella cosiddetta zona del ferro di cavallo per ripristinare l'erogazione della corrente elettrica in seguito ad un incidente, quello che vi abbiamo raccontato, che si è verificato alle primi luci dell'alba. Per effettuare l'intervento la circolazione stradale in quel tratto è stata temporaneamente interrotta. E adesso parliamo del maltempo che è atteso già da queste ore. L'assessore è attesa per questa notte soprattutto la neve anche in provincia di Teramo, i fiocchi bianchi previsti anche a quote basse. La provincia è pronta con il piano di emergenza ma per l'assessore provinciale Licio Romandini se il maltempo dovesse perdurare ci sarebbero seri disagi per la circolazione. Sentiamolo. Per questa notte è attesa la nevicata nel Teramano. Il piano neve della provincia c'è però c'è preoccupazione perché non c'è la copertura finanziaria totale. È vero. Noi abbiamo assicurato adesso con l'approvazione del bilancio del 27 novembre abbiamo messo altri soldi sull'acquisto soprattutto del sale che è in caso di ghiacciata perché si parla pure di temperature molto basse non solo adesso ma anche verso la fine dell'anno. L'unica cosa è che non c'è la copertura per tutto il piano neve. È assicurato con finanziamenti previsti dal bilancio quindi spendibili con soldi reali sopra la 81 quindi da un certo livello in su da una certa altitudine in su da 700 metri in su non abbiamo la copertura finanziaria al di sotto compreso Teramo. Quello che ho detto insomma noi cercheremo di assicurare comunque il servizio lo faremo nei punti più delicati della provincia soprattutto gli ospedali assicureremo la viabilità principale altro non possiamo fare abbiamo i nostri mezzi ne abbiamo circa 15 con vomeri già montati già pronti sul territorio anche 10 spargi sale due turbine però l'evento insomma non è quello dell'anno dell'anno scorso o quello di febbraio di quest'anno è una perturbazione da quello che dicono le previsioni molto veloce attraverserà la provincia di Teramo e permarrà forse per 8-10 ore ci si aspetta secondo le previsioni qualche centimetro anche a Teramo una decina insomma non è quello che ci preoccupa il sale ce l'abbiamo l'organizzazione è pronta il problema sarà se questo evento si ripeterà e c'è già un primo aggiornamento per quanto riguarda il maltempo in particolare per quanto riguarda la neve perché proprio in questo momento sta nevicando sulle colline atriane e in alcune zone della Val Vibrata cambiamo decisamente pagina i pensionati abruzzesi sono scesi oggi in piazza in occasione della giornata di mobilitazione nazionale indetta dai sindacati per dire al governo e al Parlamento che il tempo è scaduto e per chiedere interventi concreti e urgenti su redditi da pensione, fisco, welfare e non autosufficienza presidi sono stati organizzati davanti alle quattro prefetture e ai comuni delle principali città d'Abruzzo il governatore della regione Abruzzo Gianni Chiodi ha partecipato alla tavola rotonda l'Abruzzo in Europa quali prospettive organizzato dalla CISL nel corso dell'incontro Chiodi ha sottolineato l'importante traguardo raggiunto dall'Abruzzo che è il leader non solo italiano ma anche europeo per quanto riguarda la riduzione del debito oggi l'Abruzzo in Europa ha la sua dignità basti pensare che nella sede della regione Abruxelles esiste la sede dell'assemblea delle regioni d'Europa questo è stato il nostro modo di recuperare credibilità e autorevolezza all'interno dei processi dell'Unione Europea adesso partecipiamo anche alla fase ascendente delle decisioni e non solo alla fase cosiddetta discendente lo ha affermato il governatore della regione Gianni Chiodi intervenendo alla tavola rotonda l'Abruzzo in Europa quali prospettive organizzato dalla CISL Abruzzo all'iniziativa nell'aula magna dell'Università d'Annunzio di Pescara hanno partecipato oltre a Chiodi il segretario generale aggiunto della CISL Giorgio Santini, il segretario regionale del sindacato Maurizio Spina il docente universitario ed economista Giuseppe Mauro, il consigliere di amministrazione Rai Rodolfo De Laurenti e il direttore della CNA Abruzzo Graziano Di Costanzo oggi l'Abruzzo, ha sottolineato Chiodi, sta dando seguito alle decisioni del 28 novembre della Commissione Europea che ha indicato 5 obiettivi da raggiungere uno di questi riguarda la riduzione del debito che grava su tutti gli europei e in questo l'Abruzzo oggi è il leader non solo italiano ma anche europeo con il 25% di riduzione del debito pubblico in 4 anni si ritiene inoltre che la pressione fiscale debba essere diminuita per non uccidere la competitività delle imprese e anche in questo l'Abruzzo è l'unica regione italiana che riduce del 30% le addizionali regionali cerchiamo di utilizzare bene i fondi europei in particolare per quanto riguarda quelle misure di contrasto alla crisi se è vero come è vero che il sole 24 ore pone l'Abruzzo come nona regione italiana per entità degli aiuti all'innovazione imprenditoriale se poi facciamo questo discorso pro capite siamo i primi in Italia quindi ha osservato ci stiamo inserendo perfettamente in quelle che sono le logiche europee di sviluppo Dopo aver denunciato la presenza di una discarica abusiva a Piane di Pozzo alle porte di Teramo il consigliere comunale del PD d'Alberto chiede che venga incrementato il numero dei vigili ecologici a Teramo uno solo seppur bravo dice d'Alberto non basta ascoltiamolo Il consigliere comunale del PD Gianguido d'Alberto ha sollevato il caso della discarica a cielo aperto a Piane di Pozzo alle porte di Teramo vicino San Nicolò l'ha sollevata in consiglio comunale per chiedere cosa? Per chiedere, tutto per segnalare l'esistenza di questa discarica che da quello che mi segnalavano moltissimi cittadini era lì in quella zona da, è ancora immagino in quella zona da molto tempo è assolutamente inaccettabile appunto che le discariche possano rimanere discariche abusive, che si verifichino questi fenomeni ma che poi possano rimanere per lungo tempo senza che ci sia un intervento degli enti e dei soggetti preposti Abbiamo segnalato che vi era una montagna di sacconi con la scritta ASL ed è assolutamente incredibile che ci possa essere un danno all'immagine perché nessuno pensa che sia stato proprio l'ente però tuttavia penso che sia un danno all'immagine dell'ente che è preposto alla tutela della salute L'inciviltà abbiamo detto al primo posto però dobbiamo segnalare anche che l'amministrazione deve assolutamente intervenire per potenziare il servizio di vigilanza ecologica è assolutamente insostenibile che un solo vigile ecologico perché attualmente abbiamo un solo vigile ecologico a cui va il nostro ringraziamento perché da solo deve coprire l'intero territorio possa svolgere da solo tutte le funzioni di tutela ambientale di polizia ambientale Nonostante il periodo di crisi siamo soddisfatti dell'assestamento di bilancio lo ha detto l'assessore del comune di Teramo nonché vice sindaco Alfonso di Sabatino Martina che in questi giorni sta anche lavorando con il sindaco Maurizio Brucchi sul bilancio di previsione 2013 sentiamo l'intervista Approvato nel corso del Consiglio Comunale di Teramo l'assestamento di bilancio quali le novità? Si parla di detrazioni del Limo? Sì, quello fa parte del regolamento comunale è un regolamento che è stato permeato una serie di agevolazioni che consentissero quantomeno un abbattimento per quelle classi meno abbienti e più disagiate che ovviamente con l'emmanazione del regolamento e quindi con l'obbligo di pagamento del Limo sarebbero state oggetto di un maggiore effetto in termini monetari Per quanto riguarda l'assestamento abbiamo fatto di necessità di virtù con un assestamento figlio di una stagione di grande difficoltà quindi insomma un assestamento che ci ha visti particolarmente soddisfatti perché farlo in queste condizioni era davvero proibitivo Ad oggi davvero la situazione della finanza locale è di estrema difficoltà e il taglio di ulteriori 2.200.000 euro previsto per l'anno prossimo oltre all'incognita del gettito IMU e oltre a quello che è il discorso del pagamento dei fornitori a 30 giorni ci danno enormi preoccupazioni noi in questi giorni già col sindaco stiamo iniziando a stilare quello che è il bilancio di previsione 2013 Che non si appresta ad essere positivo? Guardi, le criticità sono davvero notevoli è indubbio che si debba fare una profonda rivisitazione dei servizi e della spesa in generale aspettiamo anche quello che sarà la rivisitazione dell'IMU sembra che ci siano delle aperture in tal senso laddove dovessero esserci anche in sede di ANCI si è fortemente dibattuto se dovessero esserci una restituzione del gettito di quello che è l'IMU a quantomeno una percentuale superata al 50% ecco potremmo sperare di mantenere i servizi per come sono ad oggi erogati Anche a Teramo il PDL si interroga su quelli che sono i contenuti da dare all'elettorato in vista delle politiche del 2013 per cercare di arginare la fuga di esponenti di spicco del partito e servizio Mi sicuro di un momento di riflessione all'interno del PDL non soltanto nazionale ma anche provinciale l'abbandono tra virgolette di Morra insomma cosa sta succedendo? Ma questo è un momento di grande difficoltà della politica in generale come tutti poi i momenti che precedono delle tornate elettorali questo forse in maniera particolare in questo momento sicuramente all'interno del centro-destra e del popolo della libertà c'è un momento di interrogazioni insomma ci stiamo interrogando su quali contenuti ancora dovremmo dare e quali risposte dovremmo dare in questo momento ai cittadini per affrontare un momento del genere è chiaro che in queste situazioni sembra quasi che non riusciamo a dare risposte o a trovare delle collocazioni non è così il partito è un partito che continua ad esistere che forse esiste più adesso che in altri momenti perché veramente ci stiamo interrogando e confrontando al nostro interno C'è il rischio, comunque paventato il rischio che ci possa essere una fuga dal PDL in questo momento oppure insomma è soltanto una preoccupazione esagerata? Ma io non ho molta preoccupazione perché sono sicura che noi al nostro interno all'interno del popolo della libertà a Terramo ci siano amministratori e politici seri che fanno delle scelte non dettate soltanto da esigenze del momento soltanto dall'ansia del ricollocamento di un momento specifico ma che poi facciano delle scelte mi auguro che si possa fare qui delle scelte che guardino al futuro Ad Alba Adriatica in arrivo la videosorveglianza 33 telecamere sorveglieranno il territorio per prevenire l'azione dei vandali la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo per l'installazione dell'impianto e servizio Dalle intenzioni alla progettualità concreta la Giunta Comunale di Alba Adriatica infatti ha approvato il progetto definitivo per quanto concerne l'installazione sul territorio cittadino di un impianto di videosorveglianza nello specifico si tratta dello schema progettuale redatto dall'ingegnere Copparoni di Ancona che si era giudicato il bando di gara varato dallo stesso esecutivo municipale per pianificare la strategia il progetto prevede la collocazione in 10 diverse aree cittadine di 33 telecamere di videosorveglianza la sistemazione di un centro per la raccolta dei dati e 6 diversi server utili per la registrazione delle immagini la spesa complessiva per mettere a punto il progetto nella sua totalità si aggira attorno ai 185 mila euro le cosiddette aree sensibili dove le telecamere saranno piazzate sono 10 la sede municipale di via Battisti le scuole di via Duca d'Aosta la delegazione municipale di via Bafile il bocciodromo, la stazione ferroviaria il cimitero, il parco pubblico della Bambinopoli la nuova scuola dell'infanzia di via De Ludi inaugurata proprio ieri il palazzetto dello sport di via degli Oleandri e il vicino campo sportivo di Villa Fiore ovviamente soddisfatto il consigliere comunale Cesare Di Felice che durante la sua permanenza nell'esecutivo aveva lavorato in questa direzione sono decisamente soddisfatto sottolinea Di Felice perché dopo un lungo iter burocratico l'obiettivo vede la luce il progetto è stato elaborato allo scopo di mettere in sicurezza le zone della città ritenute sensibili e mira a dare ai soggetti competenti polizia municipale e forze di polizia tutti gli strumenti necessari per intervenire non soltanto post evento ma eventualmente anche in tempo reale durante l'accadimento del fatto per contrastare eventuali atti vandalici furti, aggressioni e rapine Gli stati generali della cultura aquilana si sono ritrovati al Palazzetto dei Nobili per pianificare un progetto molto ambizioso la candidatura dell'Aquila come capitale europea della cultura per il 2019 Stati generali al Palazzetto dei Nobili e gli operatori della cultura aquilana e infatti ai primi passi il lungo e non facile percorso si intende fare di l'Aquila capitale europea della cultura per il 2019 una data solo apparentemente il tempo infatti già stringe in 10 mesi bisogna presentare il progetto di candidatura con un'idea forte tra cui costruire eventi e proposti a dicembre 2013 ci sarà una prima preselezione poi la scelta sarà fatta dalla giuria internazionale del 2014 non sarà facile accompagnare decenni di città dei livelli di Ravenna e Venezia in fondo ci sono oltre 3 milioni di euro in pari ma l'Aquila non ha nulla da perdere a crederci fino in fondo a diventare una città che sogna e che come tutti i sognatori scrisse Enno Flaiano ai piedi fortemente appoggiati sulle nuove Termini giovanili questa occasione di parlare di una città di cultura e di fondare qualcosa di nuovo affinché tutti i giovani che sono e saranno gli abitanti di questo territorio magari offrire degli spunti e delle possibilità anche di lavoro forse potrebbe aiutare a riconiugare un po' soprattutto questo mondo giovanile che lo vedo abbastanza disgregato credo che l'arte noi abbiamo tentato di farlo con la prima mostra che abbiamo inaugurato al Muspac l'arte anche provochi dei terremoti cioè provochi delle scosse la mostra si chiamava le scosse dell'arte e quindi bisogna scuotere in un certo senso le coscienze come fa il terremoto cultura è tutto è anche essere società essere comunità cultura è anche quella di saper dimostrare nei fatti che si vuole mirare al bene della comunità è stato presentato il progetto Epi Bio dedicato alle scuole terramane per favorire la conoscenza e la diffusione degli alimenti biologici il servizio è importante sì da piccoli imparare a mangiare bene lo sa bene Epi Park che ha voluto una manifestazione tutta dedicata al buon cibo e al cibo biologico Epi Bio una iniziativa alla quale il comune di Terramo ha voluto conferire il patrocinio sì con l'assessore al commercio Mario Cozzi abbiamo fatto questa cosa in collaborazione con questa azienda Epi Park considerate che noi il discorso dell'educazione alimentare lo portiamo avanti bene devo dire con orgoglio già dagli asili nido poi proseguendo per le scuole dell'infanzia dove noi facciamo refezione scolastica e quindi diamo delle regole buone per mangiare bene e sano ai nostri bambini era giusto proseguire questa questa iniziativa anche quando i bambini magari cominciano a frequentare le scuole primarie e quindi con appunto un imprenditore privato serio che ci asseconda in questa opera di educazione alimentare abbiamo sponsorizzato questa iniziativa il bambino è un gran consumatore di merendine industriali qui invece proponiamo un'alimentazione sì molto buona ma fatta con prodotti biologici quindi si può godere nel palato del bambino rimanere soddisfatto e intossicandosi poco e niente perché appunto utilizziamo prodotti biologici del territorio quindi abbiamo cercato i cereali l'acqua e anche i succhi insomma e la frutta tutto proveniente qui in zona e la zona offre tantissimo ieri è stata inaugurata a Teramo la mostra di pittura a Teramo e dintorni con opere di Glauco Barlecchini e Pierannunzio Nori il servizio sarà possibile visitare fino a giovedì 13 dicembre la mostra d'arte contemporanea a Teramo e dintorni nella sale espositive di Via Nicola Palma un'iniziativa voluta da Teramo Nostra sì intanto noi siamo onorati Glauco il pittore Glauco Barlecchini che è socio storico della nostra associazione è stato sempre vicino sta sempre vicino e dopo Nori Pierannunzio un'altra pittrice diciamo teramana di fatto perché dipinge la nostra città il marito ha anche un'attività nella nostra città quindi ci fa immensamente piacere perché parlare di Teramo e dintorni ci fa conoscere ancora di più la nostra città e invitiamo veramente tutti quanti a venire a vedere perché vale la pena chi ha due minuti di vedere questa mostra che sta al centro di Teramo in questa sale espositiva comunale aperta da Teramo Nostra quando c'era la giunta Sperandia quindi vogliamo che tutti quanti vengano a vedere questa mostra si potrà ammirare davvero Teramo e dintorni in tutte le sue opere sì certamente prima dipingevo in modo più astratto e la gente era costretta a guardare i miei quadri a una certa distanza adesso li costringo a guardarli con gli occhiali vista la dimensione delle miniature che ho fatto sono tutti acquarelli mentre prima che mi dicevo d'olio dopo giudizio alla gente a me piacciono sono i miei splendidi paesaggi da ammirare nelle opere di Nori Pierannunzio grazie mille la mia prima esperienza di fare una mostra con il maestro Barlecchini sono felice soddisfatta speriamo che vada bene la chiesa a cuore immacolato di Maria di Piazza Garibaldi è stata riaperta al culto dopo i lavori di ristrutturazione i parochiani ringraziano Don Davide per i lavori eseguiti intanto prosegue fino a domani a Castellalto l'iniziativa il mercatino delle strene evento che ha visto anche la collaborazione delle scuole il servizio professoressa nel contesto del mercatino delle strene c'è una collaborazione con l'associazione che ha visto impegnati in primo piano i ragazzi delle scuole sì i nostri ragazzi hanno partecipato all'interno del mercatino delle strene con la preparazione attraverso un laboratorio attivato dalle docenti di Castellalto e di Villa Zacche che ha prodotto moltissimi oggetti per diciamo addobbare un albero grande e per realizzare un presepe e quindi si sono andati da fare da tanto tempo che lavorano all'interno di questo laboratorio con la docente Vitelli ed altre che si sono impegnate insieme con lei con la scuola di Villa Zaccheo diciamo che è stato un lavoro compiuto congiunto tra Castellalto e Villa Zaccheo proprio per partecipare insomma uniti all'interno di questa festività del borgo nostro in cui noi lavoriamo due plessi scolastici diversi insomma che si sono uniti in questo frangente recitando un ruolo attivo in occasione dell'avvento più atteso che è il Natale è proprio vero cioè sono due classi che hanno unito le loro energie due o tre classi le quinte e le quarte che di Villa Zaccheo e Castellalto che si sono diciamo amalgamate insieme con le docenti sono riuscite a realizzare quello che poi abbiamo visto in precedenza diciamo analizzato in dettaglio dalla docente Vitelli e adesso vediamo insieme che tempo farà domani con le previsioni di Meteoteramo.it Previsioni per domani in Abruzzo al mattino variabile con deboli rovesci di neve specie nelle zone montane nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di neve anche sul livello del mare tra sera e notte variabile con deboli rovesci di neve lungo la dorsale sereno sulle aree adriatiche temperature in sensibile diminuzione massime comprese tra 0 e 3 gradi nelle conche aquilane e marsicane tra 6 e 9 gradi sulle pianure adriatiche venti moderati o forti settentrionali mare mosso in provincia di Teramo al mattino cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni sparse nevose a quote basse fino sulle pianure delle zone interne dal pomeriggio miglioramento delle condizioni atmosferiche con schiarite a partire dalle aree litorane tra sera e notte ampi rasserenamenti e gelate diffuse temperatura insensibile diminuzione massime comprese tra 4 e 7 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 6 e 9 gradi sulle coste venti moderati o forti settentrionali mare mosso o molto mosso siamo allo sport iniziamo con il calcio Teramo rimaneggiato per il derby di lunedì all'Aquila out Petrella mentre Foglia e Bucchi probabilmente non saranno neppure in panchina squalificati Speranza e Coletti il Chieti andrà a Foligno ieri invece in anticipo la Salernitana ha battuto per 1 a 0 il Martina Franca ma ascoltiamo il tecnico del Teramo Cappellacci si va all'Aquila un derby contro una squadra che soprattutto nelle ultime settimane sta dimostrando quello che è il suo reale valore Sì perché l'Aquila è una squadra forte attrezzata per recitare un ruolo importante loro chiaramente vorranno vincere perché devono tenere botta adesso se vogliono inserirsi nella lotta per il primo posto però anche noi non è che possiamo dormire perché abbiamo bisogno di muovere la classifica sarà una partita difficile però insomma con le nostre armi speriamo di fare una buona gara e magari di fare anche risultato Anche in questa settimana delle scelte sono tra virgolette obbligate viste le defezioni in termini di squalifiche e infortuni Sì in effetti la cosa nuova è che abbiamo anche due squalificati perché insomma dai non ci fa piacere però questo è quello che porta il convento e l'altro problema è quello che abbiamo da un po' di tempo e che magari là davanti non siamo in tanti perché? Perché abbiamo avuto qualche infortunio di troppo però anche questa è una cosa che noi sappiamo abbiamo fatto a meno in altre circostanze facendo bene quindi non vedo perché non si possa fare bene anche lunedì Veluccio dovrebbe rientrare mentre per quanto riguarda Petrella? Sì Bellucci potrebbe rientrare anche se poi insomma il problema lui ce l'ha sono comunque sicuro che lui possa essere comunque della partita Petrella invece penso di no come penso di no Foglia e poi c'è che questa settimana Bucchi è tornato ad allenarsi col gruppo anche se non ha fatto tutto però insomma è un giocatore sulla via del recupero speriamo che se non questa settimana magari la prossima possa insomma riessere disponibile per essere convocato addirittura per giocare domani si giocherà anche nella campionato di Serie D il San Nicolò andrà a Civitanova mentre la Miterrina farà visita alla Termoli grande attenzione soprattutto per il derby tra Celano e Angolana proprio nel San Nicolò ci sarà l'esordio dei nuovi acquisti ma seguiamo la presentazione della giornata nel prossimo servizio non è più tempo per i se o i ma il San Nicolò sembra essere arrivato al bivio della stagione dopo il forte intervento sul mercato della società che peraltro pare non essere terminato i biancazzurri domani a Civitanova devono provare a non sbagliare saranno a disposizione i nuovi arrivi Chicco, Zebi e Gabrieli per poter subito contribuire alla causa mentre hanno già salutato la compagnia oltre a Via Sella e Costantino anche Coccia e Guerriero rientrato da Vellino che dunque non saranno della gara a Civitanova mister Rinaldo Cifaldi ancora a caccia della prima vittoria in biancazzurro potrà dunque contare sulle nuove forze che devono dare insieme a chi c'era già la scossa in positivo alla classifica del San Nicolò ancora all'ultimo posto i biancazzurri tornano ad affrontare la Civitanovese dell'ex Giorgio Galli dopo averla eliminata nella pre-season dalla Coppa Italia un successo che aveva purtroppo solo illuso sulla bontà del campionato che potesse fare l'allora truppa di De Amicis tra una settimana ci sarà la sfida salvezza contro il Città di Marino che però non ha accordato l'anticipo doveva giocarsi sabato prossimo per la concomitanza dell'impegno casalingo con il Teramo la gara si giocherà quindi domenica probabilmente a Notaresco la Miternina dopo tre giornate in cui sono arrivate un pareggio e due sconfitte si affida al neoacquisto Costantino per provare a superare il forte Termoli il Celano è invece davanti a sé un altro derby quello contro la Renato Curi Angolani Il campionato di eccellenza è al giro di Boa domani ultima del girone di andata ma il rischio è che il maltempo possa condizionare la giornata calcistica e il servizio Ultima tappa del girone di andata del campionato di eccellenza all'insegna di società che in occasione della riapertura delle liste di trasferimento stanno rivoluzionando i rispettivi organici Il Giulianova in questa prima settimana di calcio mercato è stato molto attivo hanno lasciato i giallorossi di Camillo Marotta Puca Improta mentre sono arrivati Clementoni Potacque Faragalli oltre un paio di giovani della D'Annunzio Pescara e si spera di chiudere anche per un bomber di peso La truppa La truppa di Gennaro Grillo affronterà la casa l'incontrada di Ronci Se il maltempo non dovesse inficiare la domenica calcistica del massimo campionato regionale il Sulmona prepara la sfida del Pallozzi contro l'Antirrocca Dopo la sconfitta patita con il Miglianico gli Ovidiani sono attesi al riscatto Civitella Roveto e Montorio se la vedranno contro Alba Adriatica e Guardia Grele e entrambi a sei lunghezze dalla capolista affrontano formazioni che latitano dai primi posti in classifica seppur l'impegno esterno dei ragazzi di Iodice nella Tana al Benze appare di non facile risoluzione Gli uomini di Mister di Serafino si sono tirati fuori da una situazione che rischiava di crollare sotto il peso della tensione ed ora seppur non siano stati scacciati tutti i fantasmi la classifica sembra più tranquilla e gestibile Le vespe montoriesi di Mister di Luigi non dovrebbero faticare contro una delle cenerentole del raggruppamento In solita sfida di vertice al Davide Bucci fra i padroni di casa del San Salvo e il Pineto nella gara tutta in biancazzurro la compagine salvanese cercherà l'aggancio ai danni dei terramani il distacco è di soli tre punti e viste le ottime impressioni suscitate da Marinelli e compagni nelle ultime giornate il tecnico Ciarrocchi dovrà sudare le proverbiali sette camice per non capitolare va a far visita ad un vasto marina con le ossa rotte il Migliani con i ragazzi di Tatomir hanno ancora negli occhi la buona prestazione che è valsa la vittoria sulla prima in classifica Capistrello e Sant'Egigliese lottano per un posto a metà classifica che consenta loro di andare verso le vacanze natalizie con qualche lunghezza di margine in più sulla zona pericolosa mentre ci si gioca una buona fetta di salvezza nelle sfide del comunale fra lo Sportingortone e la Rosetana e in quella della Valle Anzuca tra Francavilla e Torrese parliamo adesso di basket domani si gioca la quattordicesima giornata nel campionato di divisione nazionale A la BLS Chieti ospita a Latina con palla 2 alla 18 turno casalingo per la Mecenergia Roseto in DNB che è sempre 18 affronterà la 2S Martina in DNC la Globo Giulianova affronterà in trasferta la capolista Orvalugo in C regionale invece grande attesa per il match del 18 al Pala Borgognoni tra Campli e Teramo vi ricordo domani gli appuntamenti con lo Sport di Teleponte domani mattina alle 9 buongiorno Abruzzo poi le 14 e 15 anche con la neve saremo qui a raccontarvi tutto quello che accade sui vari campi studio stadio e poi le 19 game over con ospiti studio e una puntata particolare in vista dell'Aquila Teramo ma soprattutto dedicata al campionato di Serie D e come sempre potete seguirci in diretta e in differita anche sulla nostra web tv all'indirizzo www.teleponte.it con questo è tutto vi lasciamo al telegiornale LIS grazie per l'attenzione buona serata e buona domenica buon proseguimento buonasera e benvenuti all'appuntamento con il telegiornale LIS di Teleponte un esercito di fasce tricolori è pronto a dare battaglia a Roma il prossimo 11 dicembre in occasione dell'inizio della discussione in Senato della conversione in legge del decreto che potrebbe abolire numerose province italiane saranno i sindaci di tutte le province a rischio soppressione a ritrovarsi per un sitin a piazza delle 5 lune nelle adiacenze di Palazzo Madama sede del Senato dove manifesteranno tutta la contrarietà dei territori amministrati rispetto ad un provvedimento ritenuto iniquo a promuovere l'iniziativa a nome di tutti i sindaci di comuni capoluogo di provincia che hanno costituito una rete di primi cittadini a difesa dei territori i sindaci di Crotone Peppino Vallone e quello di Teramo Maurizio Brucchi i carabinieri del nucleo operativo di Alba Triatica hanno arrestato un albanese di 25 anni incensurato e residente a colonnella con regolare permesso di soggiorno nella serata di ieri i militari che già da tempo lo tenevano d'occhio hanno perquisito la sua abitazione scoprendo 50 grammi di cocaina del valore di 5.000 euro la droga era suddivisa in 30 involucri termosigillati 7 nascosti in un pacchetto di mentos per evitare i controlli delle unità cinofile i restanti involucri si trovavano invece in un barattolo contenente del riso nascosto nel filtro della cappa del camino i militari hanno anche ritenuto e ritrovato un bilancino di precisione e 80 grammi di mannite il 25enne si trova ora agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione ai pini di spaccio perde il controllo dell'auto che finisce contro un palo della pubblica illuminazione il conducente si allontana ma nella zona si verifica un blackout elettrico sono dovuti intervenire i vigili del fuoco gli operai dell'Ener e del comune ad Alba Adriatica nella cosiddetta zona del ferro di cavallo per ripristinare l'erogazione della corrente elettrica in seguito ad un incidente che si è verificato le prime luci dell'alba per effettuare l'intervento la circolazione stradale in quel tratto è stata temporaneamente interdetta attesa per questa notte la neve anche in provincia di Teramo i fiocchi bianchi sono previsti anche a quote basse la provincia è pronta con il piano di emergenza ma per l'assessore provinciale Elicio Romandini se il maltempo dovesse perdurare ci sarebbero seri disagi per la circolazione su tutto il territorio anche a Teramo il PDL si interroga sui contenuti da dare all'elettorato in vista delle politiche del 2013 per cercare di fermare la sempre più ricorrente fuga di esponenti di spicco del partito ad Alba Adriatica e in arrivo la videosorveglianza 33 telecamere sorveglieranno il territorio per prevenire l'azione dei vandali la giunta comunale ha infatti approvato il progetto definitivo per l'installazione dell'impianto la chiesa cuore immacolato di Maria di Cazzagaribaldi a Teramo è stata riaperta al culto dopo i lavori di ristrutturazione dei giorni scorsi i parrocchiani ringraziano Don Davide per i lavori eseguiti parliamo ora di sport Teramo rimaneggiato per il derby di lunedì all'Aquila Out Petrella mentre Foglia e Bucchi probabilmente non saranno neppure in panchina squalificati Speranza e Coletti ieri intanto nell'anticipo la Sarnitana ha battuto per 1 a 0 il Martina Franca in Serie D ancora un derby per il Celano domani infatti è in programma la gara contro la Renato Curia-Angolana la Miternina dopo tre giornate non troppo positive affronterà il forte Termoli mentre il San Nicolò sarà di scena a Civitanova e chiudiamo con l'eccellenza campionato di eccellenza al Giro di Boa domani ultima giornata della Girona di Andata ma il rischio è che il maltempo possa condizionare la giornata classica era questa l'ultima notizia il telegiornale LIS torna lunedì prossimo grazie grazie a tutti